Assenteismo e furbetti al comune di Villa Franca Sicula. I carabinieri della compagnia di Sciacca hanno eseguito 12 misure cautelarie emesse dalla Tribunale su richiesta della Procura di Sciacca a carico di 10 impiegati pubblici del comune di Villa Franca Sicula di un medico di base e della sua segretaria. Il medico è ristretto agli arresti domiciliari. Agli altri 11 è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I reati contestati a vario titolo sono truffa aggravata e continuata in danno dell'ente pubblico e falsità in certificati medici. Tra i tanti dipendenti comunali coinvolti nell'attività investigativa spiccano anche alcuni impiegati con funzioni di responsabilità che avrebbero agevolato il personale assenteista strisciando il loro beige per attestarne la presenza. I carabinieri nel corso delle indagini hanno usato servizi di osservazione e pedinamento, videoriprese e intercettazioni. E ciò ha consentito di svelare che buona parte del personale dipendente sarebbe stato solito allontanarsi dal luogo di lavoro per svolgere attività di esclusivo interesse personale. Il comune di Villa Franca Sicula, con una popolazione di circa 1.300 residenti, ha 71 impiegati al comune. Tra i tanti casi di comportamenti biasimevoli vi è un dipendente che strisce il beige in piena notte senza alcuna reale esigenza di servizio. Il custode della villa comunale Musso, che non svolge il proprio lavoro e chiude la villa durante l'orario di fruizione al pubblico. E poi una dirigente, che dispone che il marito, anche lui dipendente, sia impiegato come autista di lei, così da recarsi insieme a Rivere e Asciacca per shopping e altro. E poi è stato registrato un aumento massiccio delle certificazioni di malattia presentate dai dipendenti con l'approssimarsi dell'autunno, soprattutto in corrispondenza del periodo della raccolta delle olive. I controlli incrociati all'Inps hanno rivelato che in un solo anno i dipendenti comunali di Villafranca Sicula hanno presentato più di 800 certificati medici, quasi tutti rilasciati dallo stesso medico di base, il quale avrebbe certificato al telefono la malattia dei pazienti senza verificarne il reale stato di salute. E nei casi più urgenti, tra virgolette, il certificato medico è stato scritto direttamente dalla segretaria. E gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'assenteismo al comune di Villafranca Sicula sono Gaetano Montana, che è il medico di base, 63 anni di età, poi la segretaria del medico è Giovanna Blanda, 28 anni, e i dieci impiegati comunali sono Santo Bonacorso, 53 anni, Rosa Buscemi, 59 anni, Giuseppe Ganga, 63 anni, Giuseppe Calabrese, 53 anni, Mariano D'Angelo, 62 anni, Calogero Latino, 58 anni, Vito Perricone, 61 anni, Paolo Scarpinato, 63 anni, Paolino Girgenti, 60 anni, e Paolo Girgenti, 56 anni.